Già lo sapete, lui è il king dei router, sto parlando del Fritzbox 4060, uno dei migliori dispositivi che potete acquistare oggi sul mercato in grado di offrirvi il Wi-Fi 6 e la possibilità di avere un miglioramento nella vostra FTTC, FTTH o qualsiasi connessione voi che cosa andate a fare? Andate a collegare in cascata al vostro HONT o MODEM questo dispositivo per andare a migliorare la vostra infrastruttura grazie alla tribanda che riesce a gestire fino a 6000 megabit per secondo e tantissime altre cose che andremo a vedere in questo video partirei dal contenuto della confezione, questo dispositivo viene fornito di vari accessori, abbiamo tutta la manualistica e un foglietto con le informazioni per collegarci all'interfaccia di Fritzbox in italiano dovete semplicemente prendere il dispositivo, ve lo faccio vedere, questo è il dispositivo con il suo stand qui dietro avete la porta WAN e avete le altre porte LAN, una porta USB 3.0 voi cosa dovete fare? Dovete semplicemente collegare il vostro router con il cavo di alimentazione che vi forniscono e andate a prendere il cavo Ethernet sempre incluso all'interno della confezione lo andate a collegare alla porta WAN qui dietro che è di colore blu, non potete confondervi lo andate a collegare alla porta migliore del vostro modem o ONT che vi viene fornito dal provider accedete nelle impostazioni e in automatico parte una configurazione guidata da parte di Fritzbox che ti permette di configurare il dispositivo vi faccio vedere al volo i collegamenti, basta che prendete il vostro router andate a collegare il cavo di alimentazione nella porta blu andate a collegare il cavo Ethernet proveniente dall'ONT oppure dal vostro modem in questa maniera in pochissimi istanti il vostro router inizierà a lampeggiare e sarà pronto per essere configurato vedete anche lo stand come aiuta in pochissimo spazio ad avere comunque una situazione abbastanza ordinata quindi davvero ottimo lavoro per quanto riguarda questo design e come vedete permette di far respirare decisamente bene il router dato che deve rimanere acceso 24 ore su 24 nel giro di 5 minuti avete già il dispositivo pronto so che tantissimi di voi ogni volta non volete riconfigurare tutti i dispositivi di casa ho fatto un tutorial proprio con i Fritzbox su come evitare di dover configurare tutti i vari dispositivi inserendo lo stesso nome e la stessa password del precedente router vi lascerò il link della guida qui sotto in descrizione ma ora concentriamoci su questo Fritzbox 4060 che cosa abbiamo di caratteristico? abbiamo di caratteristico che come vi ho detto è wifi 6, 3 banda quindi riusciamo a configurare fino a 3 reti wireless differenti oppure tenete semplicemente una rete e in automatico assegna ai vari dispositivi la velocità e la frequenza più adatta per sfruttare il wifi 6 non sto a dirlo ma lo dico lo stesso il vostro dispositivo deve avere la compatibilità con il wifi 6 e a questa velocità riuscite a sfruttare due antenne da 2400 megabit per secondo mentre quando si attiva il wifi 5 andate a sfruttare due antenne da 1733 megabit per secondo ciascuno altra cosa importantissima di questo router ad esempio a differenza del 7590 AX qui abbiamo una porta WAN da 2,5 gigabit per secondo cosa significa? riusciamo a sfruttare appieno la velocità che ci fornisce il nostro provider ad esempio Iliad mi fornisce una velocità attraverso una porta LAN di 2,5 megabit per secondo ecco con questo dispositivo riesco a sfruttarla appieno traducendo in parole semplici adesso il mio wireless va una bomba tra le varie funzioni abbiamo anche il DECT che ci permette di controllare fino a 6 cordless differenti con tutta un'interfaccia per la segreteria che vi permette di personalizzare insomma il vostro sistema delle telefonate altra caratteristica che amo è la presenza di una porta USB 3.0 che mi permette di sfruttare questo router anche come un piccolo NAS infatti io ho collegato una USB 3.0 nella parte posteriore del router e attraverso i miei computer attraverso la Smart TV riesco ad accedere a un NAS multimediale che mi permette di trasferire facilmente tutti i miei file senza dover ogni volta staccare chi avete USB lui è il mio piccolo NAS che posso sfruttare anche attraverso l'app Fritzbox presente sul Play Store o anche sull'Apple Store andando in Input nella vostra televisione vedete compare in automatico rete Fritz Media Server andate in foto o video potete guardarvi tutti i contenuti che avete salvato nella USB c'è anche la comodissima app che ci dà tutte le informazioni sul nostro router possiamo anche accedere da remoto quando siamo fuori casa per gestire tutti i nostri dispositivi e qui possiamo accedere anche al NAS per caricare tutte le nostre foto video eventualmente nella USB vi faccio vedere al volo l'interfaccia semplicissima qui andrete a configurare per la prima volta il vostro router ma vi ripeto all'inizio c'è una guida automatica non dovete fare praticamente niente avete informazioni su quali wireless stanno funzionando infatti potete configurare vi ripeto fino a tre reti wireless differenti tutti i dispositivi collegati sia via cavo LAN sia attraverso il wireless e con quale frequenza avete sempre in chiaro l'andamento in upload e in download dei dati che girano all'interno della vostra rete potete gestire tutto ciò che riguarda la telefonia e avere anche un grafico ben chiaro di quali dispositivi sono collegati e anche come si comportano tutti i dispositivi in rete mesh vedete vi ricordate che ho detto che sto sfruttando ancora il 7590 infatti qui mi compare un 7590 e mi dice quali dispositivi sono collegati a quel dispositivo sempre all'interno della mia infrastruttura wireless ma secondo me la figata più bella di tutte è il fritz nas basta che premete qui in alto a destra e vi si attiva questa interfaccia che vi permette di accedere all'interno della usb del vostro router e potete trasferire caricare scaricare file senza dovervi comprare effettivamente poi un nas questo è molto utile ad esempio se avete una stampante e volete fare le scansioni smb quindi con il fritz box configurate la cartella la condividete in rete e in un attimo avete i vostri file condivisi oppure per le smart tv volete caricare i film attraverso il nas e dopo andare sulla smart tv e vedere il film potete farlo vediamo adesso le differenze tra wifi 5 e wifi 6 perché so che tanti di voi magari siete curiosi e dopo andiamo con lo smartphone adesso sono con un'antenna wifi 6 però attualmente sto usando il wifi 5 questa è la velocità in download quella che vedete lì sotto invece è la velocità in upload circa 9 di ping adesso cambiamo rete e andiamo sul wifi 6 facciamo l'esperimento adesso con il wifi 6 più o meno la situazione è migliorata come potete vedere abbiamo un ping anche leggermente ma il ping siamo sempre lì upload anche decisamente migliorato di qualche megabit per secondo poi dipende sempre vi ricordo dalla presenza di altri wireless dalla quantità di dispositivi che in casa mia è esagerata adesso vediamo con gli smartphone cosa succede adesso state vedendo i risultati che ho ottenuto facendo un rapido speed test sia in wifi 5 sia in wifi 6 con il mio Realme GT Neo 2 questa è una situazione ideale dove abbiamo un dispositivo molto vicino al router e direi che i risultati sono più che buoni abbiamo anche qui un piccolo miglioramento che fa la differenza soprattutto quando scarichiamo le app o carichiamo foto direttamente nei vari store Odorak per quanto riguarda la copertura che ci dici? vi dico che in un appartamento di circa 100 metri quadri riesce tranquillamente il wireless a coprire quasi il 100% dell'abitazione ma se così non fosse vi ripeto c'è anche l'opportunità di sfruttare la rete mesh di Fritzbox anche grazie ai loro repeater per esempio ho questo Fritzbox repeater 600 io vi consiglio magari un 1200 oppure altri dispositivi un pochino più prestanti con wifi 6 questo è il più economico in assoluto che potete prendere e lo andate a posizionare in quei punti dove non prende bene vi faccio vedere al volo come dovete configurarlo innanzitutto andiamo ad aprire la scatola eccolo qua è bello piccino contenuto all'interno di questo pezzo di carta andiamo a togliere la pellicola in questa maniera e siamo pronti per collegarlo alla corrente lo andiamo a collegare alla corrente in questa maniera e aspettiamo che lui parta e sia pronto per essere configurato perfetto dopo che avete aspettato qualche secondo premete il tasto connect rosso qui una volta e fate la stessa cosa anche nel Fritzbox 4060 in questa maniera anche lui inizia a lampeggiare una volta che entrambi hanno smesso di lampeggiare vuol dire che la connessione è avvenuto senza alcuna password e in maniera plug and play perfetto ha smesso di lampeggiare quindi la configurazione è avvenuta con successo penso sia ben chiaro un buon router può fare la differenza in una rete casalinga lo so il prezzo non è troppo esagerato ma neanche troppo economico parliamo sempre di 200 euro ma sono i 200 euro secondo me miglior investiti perché chi come me ha tantissimi dispositivi per la smart home e ha problemi di connessione perché il provider ti dà un router scarsissimo e appena connetti i due dispositivi inizia ad andare stra lento con Fritzbox questo problema lo vai a risolvere il valore aggiunto di Fritzbox è che non solo abbiamo un buon prodotto ma anche l'ecosistema è ben fatto basti pensare alla rete Mesh basti pensare al Fritz OS che viene aggiornato nei mesi non è un prodotto che vi vendono e poi ci vediamo tra 10 anni con un nuovo prodotto Fritzbox tende ad aggiornare i propri dispositivi infatti io ho ricevuto diversi aggiornamenti e questo ovviamente dimostra che si tratta di un prodotto di buona qualità la stessa AVM vi offre 5 anni di garanzia sul prodotto quindi insomma anche loro hanno fiducia su ciò che vi vendono dove potete acquistarlo? lo potete acquistare direttamente su Amazon vi lascio il link qui sotto in descrizione così come vi lascio in descrizione anche i link dei vari repeater che potete associare a questo dispositivo immaginiamoci di abitare in una villa e effettivamente la copertura wireless deve essere un pochino sistemata grazie alla rete Mesh di Fritzbox e i suoi repeater potete realizzare tutto quanto anche in maniera piuttosto semplice fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un bel commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao